Anticipazioni Beautiful. Giovedì, 18 marzo 2021. Hope, spiega a Douglas, che lei e Thomas, saranno sempre i suoi genitori, pur non vivendo sotto lo stesso tetto. Resteranno sempre una famiglia. Alla Spencer, Wyatt chiede al fratello, cosa sta architettando contro Thomas. Inoltre, è molto preoccupato per Hope. Era proprio necessario, tornare a lavorare al fianco dello stilista? I due, sono anche tesi, per Zoe. Sono certi che la ragazza, si lascerà manipolare dal Forrester, e che boicotterà il loro piano. Liam, sa bene che la situazione è delicata, ma anche Steffi ha bisogno di risposte, e non c'è altra strada percorribile. Brooke, raggiunge Liam, per rimproverarlo. Ha messo in piedi un progetto così rischioso, senza nemmeno informarla. Ora Hope, si ritrova a lavorare, fianco a fianco, con il suo guzzino. Thomas, sta combinando fin troppi intrighi. E va assolutamente fermato. Sicuramente, ha altro in mente, ed aggiunge di non credere affatto, nella sua miracolosa redenzione. Liam, concorda su tutto. E specifica che non si arrenderà, fino a quando non avrà smascherato il cattivo Forrester, agli occhi di tutti. Forrester, agli occhi di tutti.